Finalmente domenica ritorniamo con tutte le regole, diciamo che abbiamo passato il Covid, abbiamo passato tutto, in questo momento torniamo in Via Roma, il suo letto vero dove è nata la Fiera Terra Nova, circa 30 anni fa. Dici un po' le date, quando inizierà e quando finirà? Allora, la Fiera Antiquario di Terra Nova inizia la mattina alle 7 e finisce la sera alle 19. Diciamo che è sempre la seconda domenica di ogni mese. La Fiera ritorna in Via Roma con tutte le modalità della sicurezza in essere, nella sede naturale, perché poi la Fiera è sempre stata in Via Roma, era stata momentaneamente allargata via Santito, però ora si ritorna, per questione di Covid, di pandemia, si ritorna nella nostra sede naturale.